Grazie a tutti. E' stato una specie di shock per me e non sono riuscito a realizzare quello che stava succedendo e questo mi porta a un punto che è fondamentale, dobbiamo invertire, per favore, veramente invertire quello che è tradizionalmente nella mentalità, nel mindset delle persone, il ruolo, ok? C'è il pubblico e i protagonisti. Qui è tutto invertito. Ognuno di voi deve sentirsi, avete creato voi con le vostre mani questa cosa, dovete sentirvi i protagonisti critici di questa cosa e quindi veramente essere lì seduti non come il pubblico. Per favore, voi non siete il pubblico, voi siete quelli che hanno creato questa cosa, voi siete il consiglio d'amministrazione, ok? E noi siamo i vostri consulenti, non nulla di più dei vostri consulenti. Detto questo, io spero veramente che qui la maggioranza delle persone abbia la forza di resistere a sto massacro che facciamo in due giorni di elezioni, perché vedrete come vi arrivano nelle mani strumenti uno in fila all'altro, uno in fila all'altro, uno in fila all'altro. E qua vi verranno dette cose che non solo nessuno vi direbbe in nessun altro contesto in Italia, ma non le sanno, proprio non le sanno. Quindi qua verrete a conoscere dei fatti che saprete solo voi e che poi potrete usare, ripeto, come questo strumento forte che avete nelle vostre mani. E cominciamo subito. Stephanie Kelton, MMT. Grazie, buongiorno. Sono qui per presentarvi i fondamenti della teoria monetaria moderna, scusate. In quattro parti, la teoria monetaria moderna è una modalità rivoluzionaria di pensare al modo in cui una economia capitalista moderna funziona. La prima parte della presentazione di stamattina riguarderà la moneta, che è una parte fondamentale del mio discorso. Bisogna capire la differenza fra quello che vogliamo chiamare moneta sovrana e moneta non sovrana. Domani, o meglio, oggi pomeriggio, parleremo della finanza funzionale. Un'altra parte fondamentale della teoria monetaria moderna rappresenta la chiave di comprensione di come un'economia moderna possa effettivamente raggiungere quanto per tanto tempo è stato irraggiungibile, la piena occupazione per tutti con una stabilità dei prezzi. Domani parleremo dell'economia internazionale e del modo in cui l'economia nazionale è rapportata a quello che avviene nel resto del mondo. Quindi metteremo in dubbio il pensiero convenzionale sul deficit e sul debito e parleremo specificatamente del futuro dell'Italia. Cominciamo quindi con la prima lezione. Che cos'è la moneta? La moneta esiste sotto forma di un io devo a te. È un debito. Quando io dico io devo a te, significa che sono coinvolte due persone in qualunque rapporto monetario. L'io è il debitore. E il tu è il creditore. Io devo a te. Gli io devo a te vengono registrati sotto forma di moneta di conto. La moneta di conto in Australia è il dollaro australiano. La moneta di conto negli Stati Uniti è il dollaro statunitense. La moneta di conto in Giappone è lo yen giapponese. In Gran Bretagna è la sterlina. In Italia è l'euro. Vedete la differenza? E capirete bene in che cosa consiste questa differenza alla fine della mia presentazione. La moneta di conto è un qualcosa di astratto, come un metro, un chilo, un ettaro. Non è un qualche cosa che si possa toccare o sentire. È rappresentativo di un qualche cosa di immaginabile solo dalla mente umana. In qualunque nazione moderna, la moneta di conto viene prescelta dal governo nazionale. La nostra teoria sottolinea l'importanza del potere dello Stato sulla moneta. Non si tratta di una cosa nuova. Infatti risale addirittura ai tempi di Aristotele. Lo possiamo trovare in Adam Smith e anche nel lavoro di John Maynard Keynes. Voglio leggere una breve citazione di Keynes, che diceva L'era della moneta cartalista o di Stato è stata raggiunta quando lo Stato ha rivendicato il diritto di dichiarare quale cosa dovesse essere considerata come moneta di conto corrente. A tutt'oggi tutte le monete utilizzate nel mondo civile sono, al di là di ogni possibile dubbio, cartaliste. Un governo sovrano definisce la moneta di conto. Un governo sovrano impone le tasse, le tariffe ed altri obblighi da pagare allo Stato. Il governo sovrano decide che cosa accetterà come pagamento verso di sé. E un governo sovrano sceglierà come realizzerà i suoi propri pagamenti ad altri. La maggioranza dei governi del mondo di oggi sceglie la propria moneta di conto unica e quindi emette una propria valuta unica. Quindi una nazione, una moneta, questa è la regola praticamente in tutte le parti del mondo di oggi. I dollari statunitensi sono sotto forma di monete e di cartaceo. Il peso messicano, banconote e monete. La sterlina britannica, banconote e monete. La maggioranza dei governi stabiliscono che le tasse debbano essere pagate in una valuta che lo Stato ha l'esclusivo potere di emettere. Queste valute sono monete sovrane. Quindi fino a quando lo Stato ha il potere di applicare le proprie leggi in materia fiscale, la gente avrà bisogno della moneta del governo. La valuta avrà valore e la gente lavorerà, venderà cose, beni, servizi al governo per poter ottenere la moneta del governo. Quindi tutto quello che il governo accetta in pagamento verso se stesso diventerà la moneta definitiva del sistema, dell'economia. È l'unico mezzo per pagare un debito. Bisogna utilizzare quindi la moneta del governo. Possiamo immaginare in qualunque economia l'esistenza di una gerarchia di moneta. Chiunque può creare moneta, ma non tutte le monete sono uguali. La moneta più accettabile si trova in cima alla piramide. Questi sono gli io ti devo accettati da tutti, quelli che tutti debbono accettare. Questi sono gli io ti devo che sono necessari per pagare i debiti. Questi sono gli io ti devo del governo. Tutti gli altri si possono indebitare e mettendo degli io ti devo, dei pagherò, ma il nostro debito non è buono come quello del governo. Non è altrettanto accettabile, non può essere utilizzato per pagare le cose. Negli Stati Uniti la gerarchia è strutturata così. Il governo ha l'io ti devo, il dollaro statunitense, che è in cima alla piramide. È una valuta, una moneta fiat, legale. Il governo statunitense è l'unico che può emettere il dollaro statunitense, quindi l'unica entità sul pianeta in grado di legalmente creare questa valuta. Il governo statunitense tassa in dollari, spende in dollari e controlla la propria valuta. Perché questo è importante? Quali sono i vantaggi del poter emettere una propria valuta? Sono enormi. Il governo, per esempio, quando emette la propria valuta e si indebita in quella valuta può sempre ripagare il debito, non può mai fallire, non può mai non avere più moneta. Si può permettere di comprare qualunque cosa sia in vendita in quella valuta. Non ha bisogno di prendere a prestito la propria valuta e può fissare il proprio tasso di interesse. Non deve pagare quello che vuole il mercato e non diventa quindi vittima delle speculazioni, dei vigilantes dei bond. Quindi ha uno spazio di agire politico allargato. Può quindi fare cose per l'economia e per la gente che un governo che non ha una valuta sovrana invece non è in grado di fare. Pensiamo a come sarebbe la gerarchia se ci fosse ancora lo standard aureo. Molti governi operavano in base allo standard aureo o l'argento per moltissimi anni della propria storia. Con lo standard aureo il governo promette di convertire la propria valuta in oro. E in questa situazione quello che troviamo in cima alla piramide non è la valuta dello Stato ma le riserve d'oro. Questo significa che il governo deve stare attento a quanto spende. Se spende troppo della propria valuta può mettere a rischio l'intero sistema perché può non essere in grado di convertire la valuta in oro come ha promesso. Bisogna quindi limitare la spesa e limitare quello che si fa a livello politico. I governi che operano in base a uno standard aureo non hanno una valuta sovrana. Secondo analoghe modalità un paese che fissa il proprio tasso di cambio in base alla valuta di un altro paese come aveva fatto l'Argentina la Russia e altri paesi non emette una valuta sovrana. E quindi questi paesi debbono stare attenti a quanto spendono. debbono difendere le proprie riserve. Se si promette di convertire la propria valuta nella valuta di un altro paese c'è il rischio di bancarotta di fallimento. Ci si può trovare senza più moneta come si può quindi procurarsi la valuta dell'altro paese. È necessario avere un'eccedenza commerciale per riuscire a riparare la situazione e si diventa dipendenti dal resto del mondo. E quindi il benessere economico viene messo a rischio e dipende da loro. La gerarchia in un paese che opera con tassi di cambio fissi mette la valuta di un qualcun altro in cima alla piramide. e si perde anche il controllo dei tassi di interesse e questo è fondamentale per poter andare avanti. Avere questo controllo è fondamentale se un paese vuole avere un debito sostenibile e una piena occupazione. l'euro non si basa su un sistema a cambio fisso però non è una valuta sovrana. È un caso eccezionale un'esperienza senza precedenti in cui la valuta è divorziata dalla nazione in cui viene usata. l'euro praticamente ha tutti gli effetti una valuta estera per voi. Tutti i 17 governi che utilizzano l'euro non lo emettono non emettono questa valuta ma la utilizzano quindi mancano dei poteri che invece ha lo Stato sovrano che emette una propria valuta. Il Giappone gli Stati Uniti la Gran Bretagna il Canada l'Australia questi sono paesi che mettono una moneta sovrana. L'euro non è una moneta sovrana. I governi che hanno adottato l'euro debbono prendere a prestito la valuta debbono pagare gli interessi stabiliti dal mercato possono non avere più moneta e quindi non hanno lo spazio di manovra politica che invece hanno i paesi che mettono una moneta sovrana. Immaginate la gerarchia di un paese dell'eurozona come l'Italia vedete qual è il rapporto che esiste fra governo e valuta è completamente diverso. l'Italia non emette la valuta che utilizza e questo è un punto essenziale. La moneta conta. Un governo sovrano dovrebbe detenere il controllo della valuta che si trova in cima alla piramide. Se invece non detiene il controllo della moneta sovrana non ha più neanche il potere di stabilire una politica ragionevole nel proprio paese. Quindi passa diciamo questo potere ai mercati dei titoli. I mercati che possono decidere quanto si può spendere cosa si può fare. Abba Lerner era un economista un contemporaneo di John Maynard Keynes il quale aveva una visione molto chiara a questo riguardo. Infatti diceva in virtù del suo potere di creare o distruggere moneta per fiat per ordine proprio e il potere di togliere la moneta alla gente mediante la tassazione lo Stato si trova in condizione di mantenere il tasso di spesa dell'economia al livello necessario per la piena occupazione. Il problema però con l'euro è che non può essere creato a piacimento i governi quindi debbono procurarsi gli euro da qualcun altro quindi hanno sacrificato la propria capacità di svolgere una politica economica sensata in tutti questi paesi e gli effetti si stanno delineando con grande chiarezza. grazie.